Lanciano, piazza Plebiscito, mi trovo più o meno al centro dove da sempre viene installato l'albero di Natale. Negli ultimi anni la precedente amministrazione aveva scelto attraverso il bando alberi di Natale originali però che hanno creato non poche discussioni. Quest'anno si vuole tornare all'albero vero, quello tradizionale. Abbiamo l'assessore Maria Ida Troilo che ha fatto proprio questo annuncio, sta lavorando su questo? Sì, stiamo lavorando su questo, tutti quanti in sinergia, quindi i meriti non vanno sicuramente solo a me, vanno a tutta la nuova giunta, la nuova amministrazione, in particolare al sindaco che si sta impegnando a 360 gradi e personalmente mi sento di ringraziare per tutto l'aiuto e il supporto anche il consigliere Fernando De Rentis per trovare finalmente questo albero di Natale che rispecchi la nostra tradizione, la nostra cultura e che ci faccia riavvicinare le famiglie al Natale con particolare attenzione ai bambini e alle disabilità e agli anziani. Come sarà quest'albero? L'albero sarà bellissimo, sarà un albero vero di 15 metri circa, sarà posizionato al centro della piazza e per l'addobbo, chiaramente nella parte bassa dell'albero per ragioni di sicurezza, se ne occuperanno, abbiamo fatto un avviso alle scuole, agli asili e alle materne, alle scuole materne per l'addobbo. Sarà nei colori oro, bianco e rosso proprio per rispecchiare la tradizione classica del Natale e quindi si darà ampio sfogo, ci sarà una partecipazione. Noi abbiamo voluto che i bambini si sentissero parte integrante di questo albero perché l'albero rappresenta la vera e propria tradizione del Natale. C'è curiosità allora per l'albero di Natale di quest'anno? Sì, curiosità che c'è l'albero nuovo, qui siamo in Abruzzo, tanti alberi che c'è, mette in bancale e mette le cose che non servono. La vecchia tradizione è l'albero, l'albero vero. L'albero torna a quello vero? Sì, mi piace, mi piace. Benissimo. Tornerà un albero di Natale tradizionale, è stato annunciato dall'amministrazione comunale, per lei è una bella idea? Ma guardi, l'albero tradizionale è un qualcosa che si fa in tutto il mondo da tantissimi anni e quello che è successo fino all'anno scorso era un discorso innovativo che rappresentava un concetto ben preciso, la sostenibilità, il recupero di materiali e questo portava anche ad un qualcosa di originale, che secondo me ha attirato tantissima gente, anche non di Lanciano, curiosa di vedere questa novità. Per me, io avrei continuato a farlo. L'albero potevamo anche metterlo in un'altra parte, insomma.